L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Ok, stiamo monitorando l'intura dell'unità a conduzione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Manovra irregolare, cedi la posizione o riceverai una penalità. Ok, una bella partenza. Proviamo a salire adesso. Grazie. 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 Benissimo, finora questo è il miglior tempo Grazie per la visione Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara Il distacco dal tuo compagno di squadra è 23,8 secondi Il distacco dal tuo compagno di squadra è 24,8 secondi Abbiamo carburante sufficienza per altri due giri Sei all'ultimo giro Il distacco dal tuo compagno di squadra è 24,8 secondi Il distacco dal tuo compagno di squadra è 24,8 secondi Grazie per il tuo duro lavoro, una performance incredibile Un ottimo piazzamento, ben fatto